Parliamo di Sir Francis Bacon, in italiano Francesco Bacone, il più grande autore segreto delle tragedie di Shakespeare, una delle principali fonti di ispirazione dell'anime Nadia, il mistero della pietra azzurra, uno dei filosofi più vicini alla nostra esperienza contemporanea, già che si tratta di un politico corrotto che una volta sorpreso e condannato si mette a fare filosofia. Addio umanesimo, benvenuto rinascimento. Bacone è uno dei tanti protagonisti di un nuovo cambiamento culturale che è il rinascimento appunto. Tutto quello che nell'umanesimo era un nuovo interesse per la cultura greco e latina, un recupero dei classici, un nuovo ruolo dato all'uomo e alla ragione, col rinascimento viene indirizzato verso l'ambito scientifico, verso la scienza. La filosofia naturale e la scienza vogliono entrambe dominare la natura. Il problema è che la filosofia naturale ha prodotto risultati astratti, metafisici, magici, che sono stati poveri di risultati. La scienza invece promette risultati concreti. Si tratta di sviluppare un approccio pratico, tecnico. La scienza deve essere messa al servizio della tecnologia, che fino a quel momento era stata considerata negativamente. Chi si occupava di tecnologia veniva considerato un vile meccanico, qualcuno che prendeva i concetti venerabili ed eterni della matematica e della fisica e li contaminava con la materia, ingranaggi, pulegge. Li legava al mondo. Ecco, tu, vile meccanico, occupati pure dei tuoi giocattolini. Noi che siamo sapienti ci dedichiamo alla comprensione della verità, alla metafisica, alla filosofia. Amore disinteressato per il sapere. Eh, sai che c'è? Vile meccanico a te è assorta. Sei tu che stai facendo giochini, che ti stai trastullando con i tuoi bei concetti inutili. Se la tua scienza non ha una ricaduta pratica, è sterile, non serve a niente. E questo è il grosso problema del sapere tradizionale. Sapere è potere. Il motto bacognano. La scienza è uno strumento, deve servire a migliorare la vita dell'uomo, a dominare la natura affinché essa risponda ai suoi bisogni e alle sue esigenze. Per sottolineare questo concetto, Bacone scrive un'utopia che chiama La Nuova Atlantide, in cui parla di una ragazzina, Nadia, che è in possesso di una pietra azzurra. Ok, no, non è un anime giapponese, è un'utopia, come quelle che abbiamo visto nei contenuti speciali, che alcuni chiamano lezioni in classe. Però è un'utopia particolare, perché l'aspetto politico, che invece era fondamentale in quella di Moro e Campanella, è messo abbastanza ai margini. L'aspetto su cui si concentra la Nuova Atlantide è proprio l'aspetto tecnologico. Bacone descrive un mondo incredibile e assurdo, in cui ad esempio gli Atlantidei hanno delle barche che viaggiano senza vele, che viaggiano anche sott'acqua e che addirittura volano nel cielo. Impianti capaci di produrre leghe e materiali dalle proprietà mirabolanti, concimi chimici, medicinali capaci di curare ogni malattia, vegetali e frutti resi più grandi, più resistenti alle malattie, più buoni, più benefici. Macchinari che riproducono e trasmettono immagini e suoni. Superarmi in grado di annientare intere città in un colpo solo. Insomma, per certi aspetti sembra quasi descrivere il nostro mondo. Ma non è strano, perché il nostro mondo è il sogno realizzato di Bacone, è un mondo in cui la tecnologia la fa da padrona. Bene, come si fa a realizzare questa utopia? Bisogna rifondare completamente la scienza mettendola al servizio della tecnica. E per fare questo Bacone sviluppa un progettino piccolo piccolo che chiama Instauratio Magna, che è praticamente un'enciclopedia totale e globale assoluta di tutte le scienze riformulate, riesposte in questa nuova modalità. Prima però di partire con un progetto così particolare, bisogna avere le idee chiare. Bisogna sviluppare un nuovo metodo che, a differenza di quello tradizionale che porta delle verità astratte e non del tutto convincenti, porti invece a delle verità scientifiche, certe e concrete. Questo nuovo metodo viene descritto nelle premesse dell'Instauratio Magna in un libro chiamato Novum Organum, che ovviamente riecheggia l'organo non aristotelico, insieme delle opere di logica e di studio del pensiero, che erano propedeutiche allo sviluppo di tutte le altre discipline aristoteliche. La prima parte del metodo si chiama Pars Distruens, perché si tratta di distruggere, eliminare tutti i pregiudizi, tutte le conoscenze false o ingiustificate che affollano la nostra mente. Bacone li chiama Idola, cioè fantasmi, cose che appaiono vere ma vere non sono. Un primo gruppo sono gli Idola Tribus, cioè i pregiudizi della tribù umana, di tutti gli uomini in quanto esponenti di quel tipo buffo di mammiferi che è l'Homo Sapiens Sapiens. Sono Idola che derivano dal modo particolare in cui funzionano i sensi e il cervello umano. Per esempio i nostri sensi sono limitati. Niente ultrasuoni, niente infrasuoni, niente ultravioletti, niente infrarossi. Al buio non va tanto bene, al freddo scordati di avere un buon senso del tatto, ma anche il fatto che i sensi ci ingannano. Due esempi su tutti. Rette parallele che non ci sembrano parallele o cose che si muovono che in realtà sono ferme. Ma più in generale è la nostra stessa mente che ci trae in inganno, che ad esempio ci fa vedere più ordine di quanto non ce ne sia. Noi guardiamo una nuvola e invece di vedere vapore acque o disposto a caso vediamo un gattino, oppure che ci fa dare più importanza alle cose che attirano la nostra attenzione. Ad esempio in una foresta di alberi tutti dritti noi notiamo l'albero storto, soprattutto se è disegnato. Oltre gli Idola Tribus ci sono poi anche però gli Idola Specus. Questi sono i pregiudizi della caverna. Naturalmente il riferimento è il mito della caverna di Platone. Vi ricordate? Quei poveretti se ne stavano incatenati sul fondo della caverna a discutere di ombre. Ecco, noi siamo incatenati al nostro carattere, alla nostra educazione, alla società in cui siamo nati. Intendiamoci, non è un qualcosa di cui si possa fare a meno. Tutti nascono con un carattere, vengono educati e sono all'interno della società. Anche Tarzan è educato dalle scimmie e comunque Tarzan non è esattamente un ottimo esempio di scienziato. Intendiamoci, il contesto culturale è fondamentale per darci gli strumenti per comprendere la realtà e agire in essa. Diventa un problema nel momento in cui mi fa accettare per vere cose che vere non sono oppure quando orienta il mio pensiero. Abbiamo già parlato in altri video di come la filosofia greca sia influenzata dal fatto che per loro il concetto di infinito è negativo. Infinito corrisponde a incompiuto. Sta cosa è infinita. E vabbè, finitela e poi ne parliamo. Oppure, per fare un esempio a noi più vicino, prendiamo il concetto di nuovo. Nuovo per noi significa innovativo, più progredito. Lo troviamo in tutte le pubblicità. Trastulla Caprimulghi, nuova formula. Cent'anni fa, nuovo voleva dire inaffidabile, privo di esperienza. Ora, capite, nel momento in cui cambia il valore che diamo a determinati concetti, cambierà anche il nostro modo di fare scienza. Ok, come si possono eliminare questi due idola? Beh, non si può, perché fanno parte della natura umana. Io posso solo essere consapevole che esistono, tenerli presenti e controllare sempre di nuovo che non influiscano troppo sulla mia ricerca scientifica. Oltre a questi, però, ci sono poi degli idola che arrivano dall'esterno. Ad esempio, gli idola fori. Questi sono i pregiudizi del foro, i pregiudizi nei confronti di coloro che hanno troppi piercing, i pregiudizi del mercato, cioè quelli che nascono dal confronto, dalla comunicazione con gli altri uomini. Fintanto che uso un linguaggio preciso e condiviso, tutto a posto. I problemi nascono nel momento in cui uso parole che non si riferiscono a nulla o il cui significato è confuso. Se io parlo a lungo di rettiliani e i rettiliani non esistono, diventa difficile dire qualcosa di vero a riguardo. Oppure, se con omosessuali io intendo un orientamento sessuale che implica attrazione nei confronti di persone dello stesso sesso e tu intendi una psicosi da curare, i risultati scientifici cui giungeremo saranno profondamente diversi. Ecco, quest'idola si possono combattere controllando di usar bene il proprio linguaggio, controllando che ogni termine che noi utilizziamo corrisponda a qualcosa di ben definito, chiaro e preciso. Dopodiché ci sono gli idola teatri, i pregiudizi del teatrino della filosofia, le false verità legate al fatto che i filosofi sono sovente così innamorati delle loro teorie che non lasciano che la realtà le mette in discussione. L'unico modo per non farsi fregare è vincere la naturale ammirazione che noi proviamo nei confronti degli antichi sapienti. Aristotele, Euclide, Pitagora, Archimede, Ptolomeo e Galeno erano dei geni, ma anche una panda batte una Ferrari se la panda punta dritta al traguardo mentre la Ferrari è completamente fuoristrada. E poi in che senso costoro sono degli antichi filosofi? Perché distano molti secoli da noi? Ma il tempo non si conta così, non si conta partire da noi. Un bambino di cinque anni non è vecchio perché dista diversi anni dall'età che noi abbiamo adesso. Si parte da un punto iniziale e rispetto al punto iniziale gli antichi siamo noi perché da quel punto sono passati diversi millenni. Loro erano dei giovinetti, dal punto iniziale erano passati pochi secoli o comunque meno tempo rispetto a quanto è il passato per noi. Insomma, smettiamo di venerarli. Hanno preso enormi cantonate, hanno commesso errori evidenti. Prendiamo quanto di buono ci hanno lasciato e procediamo oltre. Infine ci sono poi gli idola furbofoni. I pregiudizi che nascono dal passare tutto il giorno col naso incollato al vostro smartphone, come fa mia figlia. No, ok, quest'ultima non c'è, ma solo perché Bacone, fortunato lui, non conosceva i furbofoni. In ogni caso, dopo la pars distruens si passa alla pars costruens, il metodo vero e proprio che porta a costruire, a raggiungere la verità. Bacone dice d'accordo, il punto di partenza sembra lo stesso, la conoscenza deriva dall'esperienza e quindi è necessario un processo induttivo, da molte esperienze particolari a una legge generale. Però noi non vogliamo far riferimento all'induzione aristotelica, che raccoglie le esperienze un po' come capitano, alla cieca. Noi vogliamo portare avanti un'induzione scientifica. E uno dice, ah, ho capito, è l'osservazione del fenomeno tramite strumenti, la sua matematizzazione, sensate esperienze necessarie dimostrazioni. No, tabelle. Si tratta di raccogliere le esperienze in maniera ordinata, facendo degli elenchi per tipologia. Ad esempio avremo quindi all'inizio delle tabule presenzie, degli elenchi di casi in cui il fenomeno che stiamo studiando è presente. Poi avremo delle tabule absenzie in prossimitate, cioè degli elenchi di casi simili in cui ci si sarebbe aspettato lo stesso fenomeno, ma lo stesso fenomeno è assente. E infine delle tabule gradum, cioè delle tavole, degli elenchi in cui io vado a disporre il fenomeno secondo gradazioni qualitative diverse. cosa vuol dire? Facciamo un esempio, e purtroppo è l'unico esempio che abbiamo, Bacone non ne fa altri. Vogliamo studiare il fenomeno del calore. Allora faremo delle tabule presenzie in cui raccoglieremo tutti quei fenomeni caldi, il magma, il fuoco, gli animali a sangue caldo, il sole, Charmander, eccetera. Poi faremo delle tabule absenze in prossimitate e quindi diremo, la luna è fredda anche se è un astro come il sole, i rettili sono animali ma non sono a sangue caldo, i fuochi fatui sembrano fuochi ma sono freddi, eccetera. Dopodiché faremo una tabula gradum che ci permetterà di disporre i vari fenomeni dal più caldo, magma, al meno caldo, mio cugino. E questo ci permette di avere non delle osservazioni casuali ma delle osservazioni ben organizzate, ben ordinate. A questo punto sarà facilissimo fare una vindemiazio prima, cioè una prima vendemmia, considerare l'insieme di queste esperienze ben organizzate e fare una prima ipotesi. Questa prima ipotesi la sottoponiamo a un experimentum crucis, l'esperimento del crocicchio, dell'incrocio, l'esperimento cruciale, cioè un esperimento che mi dia due uniche possibilità, o viene confermato o viene smentito. Se viene confermato diventa una legge, se viene smentito, o i boh, dovrò tornare alla mia vindemiazio e farne una seconda, cercando una nuova spiegazione al fenomeno. Tutto molto bello, se non fosse che questo metodo qualitativo sembra troppo approssimativo. E lo stesso Bacone non ne viene a capo, dell'Istauratio Magna non scrive nulla, tranne che il Novum Organum. E uno dice, vabbè ma allora perché lo studiamo? Forse perché un metodo qualitativo potrebbe essere utile a noi che siamo abituati a dei metodi quantitativi? Oppure perché è filosoficamente interessante vedere che, accanto al metodo scientifico galileiano, che se poi imposto, c'erano altri metodi che venivano presi in considerazione? No, è perché noi professori siamo creature malvagie che vogliamo insegnare ai nostri allievi cose inutili. Grazie. Grazie.